Buonasera, eccoci qui per l'ultima edizione del nostro telegiornale. E allora, mancano ormai poche ore all'inizio della fase 2, quella importante verifica per sapere se il contenimento dell'epidemia di coronavirus potrà essere duraturo. Oggi i numeri hanno detto che continua l'andamento positivo, nonostante i 174 morti superano la soglia degli 80.000, le persone guarite, gli attualmente positivi, sono vicini a tornare sotto i 100.000. E allora, le regole, i timori, le incertezze di una riapertura, il lavoro che riprende le infrastrutture che sono sottoposte a un nuovo test, sperando che non ci si debba fermare ancora. Niente pugno di ferro, ma nessuno pensi che siamo al liberi tutti. La fase 2, scattata a mezzanotte, dovrà trovare un difficile punto di equilibrio tra tutela della salute pubblica e necessità di riavviare la macchina produttiva e sociale del Paese. La circolare del Viminale, ultimo tassello normativo prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto Conte, ha raccomandato ai prefetti che dovranno gestire e coordinare i controlli, prudenza ed equilibrio nella valutazione dei singoli casi. Massimo rigore nell'impedire assembramenti, nel far rispettare la distanza interpersonale e l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine nei luoghi ove previsto, ma nessun eccesso di fiscalità nell'applicazione di norme che in molti casi, come ad esempio l'invito a limitare al massimo le visite ai parenti, somigliano più a raccomandazioni e sollecitano il senso di responsabilità dei singoli cittadini. Responsabilità che invoca anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, perché, spiega, questa partita non si vince per decreto, ma con il rispetto delle regole. Sul sito del Viminale è arrivato anche il nuovo modello di autocertificazione utilizzabile già dalle prossime ore, ma si potrà utilizzare anche il vecchio modulo barrando le parti non più attuali. In ogni caso l'autodichiarazione potrà essere fornita dagli agenti e compilata al momento del controllo. La circolare dà anche il via libera agli allenamenti individuali anche per gli atleti degli sport di squadra. I calciatori dunque potranno allenarsi da soli nei centri sportivi delle società con tutte le misure precauzionali necessarie, anche se in serata il Ministro dello Sport Spadafora ha ribadito che di ripresa del campionato per ora non se ne parla nemmeno. Ed è anche il Premier Conte ad essere sotto pressione, come del resto il governo, stretto tra la riapertura, il nuovo decreto e il malcontento fra gli alleati della maggioranza. Responsabilità. A poche ore dalla fase 2 Giuseppe Conte lancia un appello via Facebook con un post. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto e saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore, scrive il Presidente del Consiglio. Come mai prima il futuro del Paese sarà nelle nostre mani, più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà, non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato. Parole diffuse, subito dopo i chiarimenti sulle modalità delle riaperture e mentre si susseguono le riunioni in teleconferenza sul decreto di aprile slittato a maggio che destinerà 55 miliardi all'emergenza economica per il coronavirus su cui si sta consumando un aspro confronto tra le forze della maggioranza. Ma il Governo deve affrontare anche il nodo dei rapporti con le regioni che in autonomia hanno dato proprie disposizioni sulle riaperture. Il Ministro Francesco Boccia annuncia l'impugnazione dell'ordinanza della Presidente della Calabria, Iole Santelli, centrodestra, che dispone della riapertura, tra l'altro, di bar e ristoranti all'aperto in contrasto con le disposizioni dell'esecutivo. La governatrice replica, mi dispiace ma non la ritiro, sono convinta dei presupposti. Dal 18 maggio l'autonomia delle regioni nella gestione delle riaperture dipenderà dai dati del contagio da Covid-19 sul territorio. Da quella data spiega Boccia, ogni regione potrà fare cose in funzione della sicurezza che ha costruito. E a proposito del decreto, vediamo quali sono le novità contenute al suo interno. Su tempi, cifre e priorità del decreto, oramai ex aprile, parla via Facebook il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, riferendosi ad un intervento a fondo perduto sotto forma di ricapitalizzazione per piccole e medie imprese a cui potrebbero essere destinati 15 miliardi. L'iniezione di liquidità più massiccia è quella da 25 miliardi destinati invece al lavoro con il prolungamento degli ammortizzatori sociali fino al 31 ottobre e la prologa delle indennità di disoccupazione e poi conferma dei bonus autonomi ok a quelli per colfe e badanti, oltre al reddito di emergenza per chi non ha alcuna entrata e alla semplificazione per il reddito di cittadinanza. Trovate coperture e accordo, il decreto potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri tra giovedì e venerdì, comunque dopo l'esito del dibattito sulla proposta avanzata dalla Commissione europea di varare il cosiddetto Recovery Fund, resosi indispensabile per affrontare la crisi coronavirus nell'Unione. Il presidente tedesco Steinmeier si è ancora una volta detto fiducioso a riguardo del provvedimento fortemente voluto proprio dall'Italia. Il problema potrebbero essere a quel punto i mercati finanziari che inoltre attendono per martedì il parere della Corte Costituzionale di Berlino sul quantitative easing pandemico avviato dalla BCE e per la giornata di venerdì il rating italiano secondo Moody's agenzia mai troppo amica dell'Italia. Se decidesse per un nostro declassamento avrebbe il triste record di essere la prima agenzia di rating a considerare i titoli del debito italiano nulla più che spazzatura. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento.